Ciao a tutti, sono Anna Battini, sono una fisioterapista del servizio di neuropsichiatria infantile di Reggio. In questo video troverete delle proposte di esercizi per bambini e bambine con l'obiettivo di andare ad allungare i gruppi muscolari delle gambe e rinforzare i muscoli del tronco. Ciao bimbe, ciao bimbi! Oggi volevo fare insieme a voi un po' di ginnastica visto che siamo tutti chiusi in casa e non riusciamo più a muoverci al parco. Per cui ho preso questa bacchetta che ci farà trasformare in tante cose. Perché la magia funzioni bisogna che la bacchetta vada su in alto, la andiamo a prendere e torniamo giù. Ci prepariamo alla magia, poi di nuovo su in alto e giù, su in alto e giù, su in alto e giù. Ora con due mani, andiamo su e ci stiriamo, ci allunghiamo e andiamo giù. Di nuovo, andiamo su e ci stiriamo e andiamo giù. L'ultima volta, su, 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 su bene e giù. Ora la magia funziona e ci trasformiamo in un panino, così. Andiamo giù a chiuderci come un panino. Contiamo fino a dieci. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci. Io sono stante, ma se voi siete bravi lo ripetete cinque volte. Adesso la bacchetta ci trasforma in una piadina, così. Una gamma di qua e una gamma di là. E andiamo giù a stendere la piadina, sempre contando fino a dieci. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci. Su. Adesso ci trasformiamo in una farfalla. Ci andiamo a mettere così. La farfalla, le ali che volano. Poi, a forza di volare, si è un po' staccato. Allora ci andiamo a riposare giù. Adesso ci trasformiamo in un seme. Un seme di una pianta. Il seme nasce un albero. Andiamo su. Così. Ci scrogliamo un po' di qua. Un po' di qua. Facciamo spattere un po' le foglie. Un po' di qua e un po' di qua. E l'albero si trasforma in una montagna. Andiamo giù. Così. Una montagna bella alta. E dalla montagna scende una cascata. Uno e due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci. Facciamo andare ancora un po' l'acqua. E la bacchetta adesso ci trasforma in una lipe. Così. Ora ci trasformiamo in un camionino. Per cui alziamo la zampa. Alziamo l'altra. Di nuovo. Questa zampa. Questa zampa. Dieci volte. Ora scrogliamo un po' la zampa di qua. Scrogliamo un po' la zampa di qua. Scrogliamo un po' la zampa di qua. Anche qua dieci volte. Ora la bacchetta ci trasforma. Dal cane in un gatto. Un gatto che si stira così. In su e in giù. Dieci volte. Poi ci trasformiamo in un elefante con la proboscide. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci. Adesso ci trasformiamo in una foca. Torniamo giù con le gambe. Ci trasformiamo così. Una bella foca. La mezza. Grazie a tutti.